Pronto a battere Di Maria, parte l'argentino, pallone in mezzo, Bonucci stacca, la prende Romagnoli, poi Malè, prima di Kostic, Di Maria, aveva battuto Paredes, quadrado per Fagioli, si muove Miretti, Fagioli non forza il passaggio, la voleva Di Maria, Kostic, altra palla dentro per... che si gira e segna un gol fantastico, il ritorno di Dusan Vlaovic, non segnava da 11 giornate e qui si sblocca nella maniera più bella, 9 in questa Serie A, 41esimo, è tornato Vlaovic, Juventus 2, Lecce 1, super gol del serbo. Il ruggito dello stadium per il nuovo vantaggio bianconero, la rete di Vlaovic che arriva dopo quella di Sise, dopo il vantaggio della Juventus firmato da Paredes, cross di Kostic, pallone deviato, Vlaovic si coordina e al volo batte Falcone, 2 a 1. da fare qui per Falcone, questa è la gioia del popolo bianconero. Dopo 773 minuti si sblocca Vlaovic. Vlaovic si sblocca Lecce 1, 2 a 1. Grazie a tutti.